Ciao a tutti amici, io sono qui con Ritmo Danza, di nuovo con Simone Corvini e Michela Natali. Oggi di che cosa ci parlate? Bene Tiziano, io direi di continuare a parlare della danza sportiva, che è una cosa che a lui piace tantissimo e per fare un po' di chiarimento su che cos'è la danza sportiva. Noi qui a Ritmo Danza Studio, che è appunto questa struttura che noi abbiamo creato alcuni anni fa, a 15 km da Bologna, abbiamo come obiettivo utilizzare gli strumenti della danza sportiva per creare il benessere, il benessere delle persone che frequentano i nostri corsi, che frequentano la nostra struttura. Infatti uno dei nostri principi fondamentali, come abbiamo già detto, è lo stare bene. Bambini, ragazzi e adulti si avvicinano al mondo della danza sportiva nella sua forma più elementare, che è quello appunto del ballo sociale, che nasce dal desiderio del muoversi, del divertirsi. E' proprio nei corsi del ballo sociale che si va a formare questo senso di aggregazione, che è un senso molto importante anche nella vita di tutti i giorni. E' proprio per questo Ritmo Danza attentissimo a questo argomento molto importante e organizza serate danzanti, organizza allenamenti, proprio allo scopo di creare tantissima aggregazione. E quindi vi abbiamo portato alcune immagini che ricordano i nostri momenti di aggregazione assieme ai nostri allievi. Vediamoli insieme. Perfetto. Qui vediamo alcuni momenti post-lezione di svago, al termine della lezione, seguiti dalle serate di allenamento di Halloween, dove i nostri allievi a sorpresa si sono presentati tutti quanti mascherati. E poi ancora li vediamo mascherati da renne in occasione delle feste di Natale. Ed ecco infine alcuni momenti di animazione. Animazione per adulti e bambini, che è un'altra cosa molto importante per Ritmo Danza e che fa sì che il numero di persone che seguono la nostra struttura aumenti di giorno in giorno. Tra di loro poi tanti sono quelli che dal semplice ballo sociale non si accontentano più e vogliono fare sempre di più, sempre di più, e quindi dal ballo sociale fanno un passo ulteriore verso la danza sportiva, trasformando quello che era all'inizio un solo hobby in un vero e proprio sport, sia per adulti che per bambini. Ma questo sarà un prossimo capitolo perché per oggi abbiamo terminato. Il tema di oggi era il ballo sociale e Ritmo Danza mi fa stare bene. Ciao a tutti. Grazie Michela, grazie per le bellissime parole, grazie anche a te Simone. Ci rivediamo insieme a Ritmo Danza. Ciao a tutti gli amici. Ciao. Ciao.